Ben trovati e bentrovate da Andrea Cartotto. Spero di farvi compagnia con questo nuovo videocorso in cui mostro, attenzione bene, come creare una lezione digitale completa da proporre in DAD, in DD oppure in presenza. Sappiamo che in DAD in questo periodo molte classi scuole di diverse regioni si trovano in questo contesto, non si possa proporre la solita lezione trasmissiva, ma occorre rispettare forse uno dei primi cardini della DAD che è creare l'engagement, l'ingaggio nei confronti dei miei alunni per mantenere alta la soglia dell'attenzione e la curva di apprendimento. Vi mostro come utilizzare Sutori, che è una nota risorsa digitale ancora poco conosciuta da noi, risorsa che ha un piano free e un piano non free, infatti la chiamiamo freemium, ma che per 30 giorni e senza poi perdere nulla di ciò che abbiamo costruito, ci permette veramente di dare sfogo alla nostra creatività ma anche ai contenuti da poter inserire. Quiz a risposta multipla, un gioco dove debbo disporre le parole nel giusto ordine o abbinarle, video, test, immagini, insomma diamo spazio ai veri contenuti con un abito digitale di qualità. La prima volta dovremo cliccare su sign up in alto a destra, ma dal secondo accesso in avanti noi andremo a cliccare su log in ed è ciò che vado a fare ora. Come state osservando, in realtà non installo nulla, basta un semplice browser e io consiglio Chrome o Firefox, vado a cliccare tra le differenti proposte su log in with Google e il browser sentirà come nel mio caso, che c'è già un account su cui ho effettuato la registrazione a Sutori, che nel mio caso è uno dei miei account della Google Suite, che ora si chiama Google Workspace, ed allora mi riporta la bacheca. Bene, Stories, vedete? Io clicco sul più e mi troverò dei modelli pronti tra cui scegliere. Siccome può essere comodo per capire le potenzialità di Sutori, ma poi dovremo smontare se prendiamo un modello piuttosto ricco, partiamo da un modello blank, vuoto, e mettiamoci le mani noi. E allora, chi di voi mi segue e ha già visto i miei videocorsi, forse noterà qualche somiglianza, tra l'altra risorsa per lo storytelling che si chiama Adobe Spark Page, la trovate sempre qui sul mio canale YouTube. Bene, noterete in realtà, se poi volete confrontare i due video, che in questa risorsa abbiamo obiettivi simili, ma un meccanismo di funzionamento diverso. Qui abbiamo forse anche la completezza del proporre internamente alla lezione diverse attività. Ipotizzo di creare una lezione per la secondaria di primo grado, trasversale, che abbracci tecnologia e storia, perché parleremo di Alan Turing, grande matematico inglese, protagonista della seconda guerra mondiale, perché i suoi studi e le sue intuizioni hanno consentito di decrittare i messaggi che i nazisti si mandavano tra loro con la macchina Enigma. Una sorta di computer interessantissimo dal punto di vista ingegneristico, che però aveva ahimè uno scopo negativo. E allora, guardate, immagine di copertina, un click, la voglio personalizzare? Click sui tre pallini. Non mi interessa? Remove o voglio modificarla? Click su Edit e posso prelevare o dalla libreria interna offerta dal servizio Unsplash o cliccando su Device caricando una mia immagine personale, una immagine che io desideri. Il cursore vedete che qui c'è, io non faccio altro che digitare Turing e clicco sulla immagine proposta che in questo caso è calzante. Con il tasto sinistro del mouse premuto spostandomi piano piano la riposiziono. Con la rotellina del mouse esterno o con analoga procedura, se utilizziamo il mouse del nostro portatile, il touchpad, possiamo anche zoomare l'immagine. Clicco su Save al termine. Titolo della lezione, quindi clicchiamo su Insert Title. clicco Alan Turing. Eccoci qua. Vedete? Posiziono bene il cursore all'altezza desiderata, cancello o inizio a digitare come preferite Alan Turing. Clicchiamo ancora sotto Storytelling, adatto ad ogni ordine e grado di istruzione. Allora procediamo un pochettino. Quindi Alan Turing, conosciamo uno dei padri, ed è così, dell'informatica moderna e scopriamo il ruolo da lui avuto in occasione, scriviamo un pochino bene, digitiamo con senso compiuto, in occasione della seconda guerra mondiale. Creo, cerco di ottenere l'ingaggio, l'engagement dei miei alunni. Bene, a questo punto procediamo sotto. Ogni volta che mi muovo, come in una immaginaria linea del tempo, io ho un più che mi consente di incrementare le funzionalità. Ed allora clicchiamo un po' sul più. Cosa mi offre il più? Il più mi permette di inserire veramente tanti blocchi. Guardate quante funzionalità. Posso inserire un file, un blocco did you know? Lo sapevi che posso inserire un quiz a scelta multipla, risposta multipla. Posso inserire un matching quiz dove io debba abbinare validandoli due concetti. Clicco su Enigma, sì, si accende di verde, però devo abbinarlo ai nazisti. Cioè, devo specificare, e quindi questo consente ovviamente di affinare anche le capacità di collegamento, nonché poi di sintesi dei concetti da parte dei nostri ragazzi. Insomma, veramente ricco. Io qui voglio un box che sia un box text. E nel box text che io vado ad inserire posso cliccare su Head Media, lo dico alla latina, i mezzi, cliccare su Device, cliccare su Browse. Guardate quante cose possiamo fare qui a sinistra, addirittura inserire un commento vocale con il Voice Recorder. Clicco su Browse. Come nei migliori programmi di cucina, battuta storica dei miei videocorsi. Vedete che ho scaricato in precedenza una foto di Alan Turing, un ritratto di Turing. Clicco su Apri. L'immagine si posiziona e qui, come vedete, potrei andare a digitare informazioni circa la vita di Turing. Una biografia essenziale, quindi biografia essenziale, Alan Turing, eccetera, eccetera, eccetera. Bellissima la funzionalità automatica che prevede una riga all'interno della quale io possa digitare la fonte dell'immagine, nei credits. E ancora di più, perché io la vedo tantissimo su Tori anche per il sostegno, la vedo tantissimo per i nostri alunni di SA e BES, è inclusiva al massimo, la possibilità di focalizzare la loro attenzione anche cliccando sul blocco stesso e dando al blocco un colore. Io clicco sul pallino bianco, vado a scegliere ad esempio il blu e vedete che si è in trasparenza colorato di blu riquadro. Mi cade l'occhio, io potrei anche scegliere una leggenda secondo la quale i contenuti più importanti siano rossi e poi la commento con i miei ragazzi, i contenuti di secondaria importanza siano azzurri e così via. Come una sorta di linea del tempo, se notate, si è frazionata la pagina. C'è apparsa una linea qui, c'è ancora un più che io posso modulare a mio piacere, clicco e allora proviamo ad inserire un multiple choice, un quiz a risposta multipla. Guardate che bel box, non pensatela a un'attività di verifica ma pensatela a un'attività rapida per favorire l'apprendimento, un quiz con l'immediatezza della risposta corretta o meno quiz. Allora, perché posso proporla anche durante una lezione sincrona e aver già parlato dunque di Enigma? Oppure potrei tranquillamente nella biografia di Turing fare riferimento ad Enigma nel box a destra per vedere se hai letto e capito? Subito ti pongo un quesito su quello. E allora, domanda. Enigma è il nome della macchina per messaggi cifrati utilizzata dai due punti, clic, nazisti, clic ancora sotto, americani, è chiaro che non posso digitare dagli perché in qualche maniera mi fregherei quindi lasciamo un dai generico, altri. Clicco sulla risposta corretta di modo che divenga verde e addirittura posso specificare, l'alunno lo vedrà, il commento relativo ovviamente legato alla correttezza della risposta. Certo, Enigma è stata ideata dai nazisti per scambiarsi messaggi che gli avversari non potessero conoscere. Decifrare, decrittare, decidiamo noi, anche perché un altro tema per cui lezione interdisciplinare tra storia e tecnologia, possiamo parlare dell'informatica moderna, possiamo parlare della seconda guerra mondiale, possiamo parlare della Germania, possiamo parlare della crittografia, eccetera, eccetera. Con un clic al di fuori, come potete osservare, io ho quindi due blocchi a disposizione. Andiamo oltre, proviamo ad incorporare a questo punto anche un blocco video all'interno del nostro lavoro e da allora sto un pochino più sotto, vedete, mi sposto senza cliccare compare il più, un clic e a questo punto vogliamo un blocco did you know per una citazione ad esempio di Turing, oppure lo sapevi che in Italia il primo computer da tavolo è stato ideato da Adriano Olivetti e dall'ingegner Perotto? Vi dico di più, che quello è stato il primo computer da tavolo al mondo, faccio una piccola aggiunta, e allora questa volta clicco su video, perché no? Si apre un box dedicato, ho la ricerca interna su YouTube, in questo caso io provo proprio a digitare Turing, oh guardate, la macchina Enigma. Attendiamo i risultati offerti dalla ricerca, ecco Enigma, come funziona la macchina di Hitler? un clic, video di 4 minuti, e guardate, ad esempio potrei valutare, secondo una leggenda da concordare con gli alunni, che i video debbano avere un riquadro non bianco, io clicco, mi scelgo questa volta un giallino, e poi qui sotto, perché posso comunque inserire un testo, posso andare a prevedere un, guarda questo video e scopri la tecnologia utilizzata per la macchina Enigma. Digitiamo bene. Insomma, come vedete, io potrei addirittura utilizzare su Tori, ma francamente lo userei con le sue potenzialità ridotte, anche per creare una linea del tempo, blocchi di testo, inserisco degli anni. Quest'anno è successo questo, sotto quest'anno è successo questo, sotto quest'anno è successo questo. La multimedialità però consente di favorire l'apprendimento. Guardate, guardate cosa stiamo costruendo. Ebbene, al termine non ci resta che cliccare su Share, perché cliccando su Share io ho la possibilità di fare che cosa? Di cliccare nuovamente su Share e di decidere, lo riconoscete dalle icone, come condividere questa mia attività. Allora, attenzione bene, come la condivido? Se è Private, primo clic, tuo lavoro è privato, solo tu e coloro che hai invitato possono vedere, commentare, eccetera. In questo caso però vedete che mi si spengono gli altri pulsanti. Noi manterremo il pulsante Secret. Il pulsante Secret ci consente anche rapidamente dall'alto di condividere, lo riconoscerete dall'icone, con due tra gli ambienti di apprendimento e restituzione più diffusi che sono Google Classroom e Microsoft Themes. Oppure ancora, semplicemente, io ottengo un link, eccolo qui sotto, pronto da copiare anche sul registro elettronico se occorre, la relativa bacheca, in altri contesti, e dalla tendina di destra io decido se i destinatari debbano solo view, vedere, se debbano view e comment, vedere e commentare, perché avete visto che c'è lo spazietto comment sotto i box, o se possano modificare e commentare. È una lezione viva quella costruita con Sutori. Il digitale diventa quello che è sempre stato e la didattica digitale è sempre stata integrata, cioè un mezzo per costruire con un abito stimolante, accattivante e per strutturare dei contenuti di valore, che poi rimangano, perché il digitale non è un qualcosa di effimero, serve a favorire l'apprendimento. Ed allora io clicco su copy, e a questo appunto simulo di essere un alunno o un qualsivoglia destinatario, guardate, clicco in alto a destra sui tre pallini, nel mio caso browser chrome, clicco su nuova finestra di navigazione in incognito, e all'interno della barra degli indirizzi, clicco con il tasto destro, clicco su incolla e vai, piccolo trucchetto che vi ho già raccontato altre volte, siamo ora nei panni degli alunni. Eccoci qua, faccio un click su ok, su questo riquadro viola, avete visto, che è apparso solo per avvisarci circa l'utilizzo dei cookies, ecco la mia lezione. Alan Turing, Enigma è il nome della macchina per messaggi cifrati utilizzati dai nazisti, dai, voilà, feedback, risposta corretta, il mio video da consultare, e sotto potrei prevedere un ulteriore quiz o l'attività, quella che prevedeva di fare il match, cioè di abbinare le parole per cui potrei abbinare Turing alla parola bomba, the bomb, che è il nome diciamo, non tanto del suo gruppo di lavoro, quanto del metodo anche da lui utilizzato, della macchina poi da lui utilizzata, per decifrare Enigma e molto molto altro. Ora io chiudo con X la mia scheda in incognito e poi chiudo con X un secondino il mio riquadro qui. Perché se fosse una lezione da proporre sulla Limo o sul monitor interattivo, io da qui potrei cliccare present. E guardate, il nome dell'autore ovviamente deriva dall'account che io utilizzo per servirmi di Sutori. Io sono sulla Limo sul monitor interattivo e ho la mia lezione a schermo intero. Si può usare anche in presentazione schermo, dunque con i principali applicativi per la lezione sincrona. Va bene per l'infanzia, va bene per la primaria, secondaria di primo e secondo grado, per l'università non ci sono casi dove lo storytelling e lo strumento digitale liquido come Sutori non si possa applicare. Guardate, a nostra discrezione, se vogliamo scorrere blocco per blocco, c'è una freccetta qui a destra. Clicc. Guardate, il focus, l'attenzione è sui contenuti. Blocco 1, blocco 2, pa, pa, pa. Ecco, in Adobe Spark Page lo scorrimento è verticale e lo decidiamo noi. Il bello di Sutori è che vai a blocchi ed è molto più che una presentazione. Vedete? Qui ci sarebbe il nostro testo, ancora un blocco. Ragazzi, allora, e ce li ho in lezione sincrona, scrivete in chat o fornitemi voi la risposta. Di che si tratta? Loro ci diranno, allora vediamo un po', provo americani? No ragazzi, non ci siamo. Vado ancora con un clic sulla freccia a visualizzare il blocco successivo. Per uscire dalla modalità present o clicco sulla X che appare pian pianino quando io mi posiziono sulla mia scheda o premo il tasto ESC sulla tastiera. Dunque, ho cercato di mostrarvi, chiaramente con quanta più sintesi possibile, ma era necessario commentare almeno i passaggi principali e salienti, come prelevare all'interno del panorama delle risorse per la DD una validissima applicazione web che ci permetta di costruire una vera lezione digitale. L'unico limite è quello dei 30 giorni, dei corsi quali passeremo al piano free di Sutori, che sarà un po' meno interattivo ma sempre valido e in tutti i casi non perderemo mai le attività complesse e strutturate che nel frattempo abbiamo realizzato. Prova, pratica su strada a voi, ancora un caro saluto da Andrea Cartotto e grazie sempre per l'affetto e la stima con cui mi seguite. Buon lavoro e anche buon divertimento, perché no? Ciao!